ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale io sono francesca e oggi studiamo insieme non sono una studentessa universitaria ma seguo dei corsi per la mia formazione personale perché voglio essere una professionista in quello che faccio quindi sto seguendo dei corsi su instagram dei corsi di disegno dei corsi di graphic design insomma sto seguendo un po di corsi in particolare oggi andrò a ricopiare degli appunti che ho preso su un corso di vari corsi vari corsi e vari webinar di instagram quindi vado a ricopiare gli appunti sul mio ipad utilizzo l'applicazione good notes se questa cosa può esservi utile in qualche modo proverò ad aggiungere un timer quindi saranno 30 minuti di studio 5 minuti di pausa e altri 30 minuti di studio spero di farvi compagnia se anche voi state studiando state ricopiando degli appunti insomma passiamo questa ora insieme cerchiamo di renderla un'ora produttiva di studiare bene e senza perderci troppo in chiacchiere iniziamo subito grazie a tutti 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 grazie a tutti